Uno. Da dove? Due. Fino a dove? Tre. Di dove? Quattro. Dove? Cinque. Da quando? Sei. Fino a quando? Sette. Entro quando? Otto. Su chi? Di chi? Nove. Per chi? Dieci. Con chi? Undici. A chi? Dodici. Di chi? Tredici. Contro chi? Quattordici. Su cosa? Di cosa? Quindici. Con cosa? Sedici. Per cosa?